Tre giorni all'insegna del puro divertimento alla mostra d'oltremare di Napoli per l'atteso appuntamento con l'International Tattoo Fest. La convention, organizzata da CoStattoo al secolo Costantino Sasso, si terrà da venerdì 25 a domenica 27 maggio e ospiterà 300 tra i migliori maestri dell'arte su pelle che giungeranno da ogni parte del mondo per sfidarsi a colpi di creazioni live in entusiasmanti contest presentati da Emmys Gallo sulle note del DJ Frank Carpentieri. Un appuntamento atteso sia da coloro che hanno già il corpo sognato da opere d'arte su inchiostro sia per i tanti curiosi che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Il Tattoo Fest punta sempre a un approccio culturale al tatuaggio, osservando tutti i vincoli igienico-sanitari, valorizzando le opere degli artisti e tatuatori. Durante queste tre giorni, gli oltre 10.000 visitatori che annualmente riempiono il polo fieristico di fuori grotta potranno curiosare tra gli stand che in piccolo riproducono gli studi degli acclamati artisti. Il filo conduttore sarà la musica con tassi di G7 e performance musicali. In programma, la giornata conclusiva sarà condita ancora da buona musica con Id Steel, Hard Rock Band Partenopea e il contest che decreterà i tatuaggi vincitori di quest'edizione. Non mancheranno, come di consueto, i laboratori dedicati ai più piccoli tra colori, body e face painting.